e adesso riassaggio così dico come sono la prima che vado a provare è Lion Man Chocolate eh? mi è cascata al telefono Lion Man Chocolate se vediamo un po' come si è già spaccata mamma mia guardate dentro è tutto spaccato mamma boh non ho finito nemmeno niente perché boh come sono piccola 55 grammi roba che se no non la divido e vedete vi dicevo non giuro no mamma mia mamma mia la cioccolata al latte mamma mia non morire fai quest'altro Makuna Honey Mad and Bread Honey al cioccolata al miele sentiamo assaggiamo 33% di cioccolata assaggiamo magari mi fa passare pure sto senso boh non lo so mi sento boh giù non lo so ma quello che c'è ehi si spacca come niente eeeh vabbè buh buh mh 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 potente scusate la peste mi inquadratura ma non so dove vogliare il telefono quest'altro è Wolfberry, cioccolate, interiore, sbagliammi ciliegia vorrei sbagliarmi non vorrei sbagliarmi ho spaccato proprio io ad aprire faccio schifo vabbè aprire e tagliare la cioccolata faccio veramente cagare ma assagiamo che si piace è meglio che la metto dentro come ho finito che talmente son voluto le faccio fuori tutte oggi poi dopo accanto matura il vanille e queste cioccolate fanno parte aiuto nel aia non si chiude e va a fare un cucchio vabbè delle cioccolate e incante the forest che c'è potassio minerali antiossidanti detox quest'altro invece è neoni sottopettato mgo monofloral fatte in bretagna fatte in bretagna antiossidanti magic testor mental clarity ogni cioccolata è diversa andiamo a provare l'ultima detox digestiva antiossidante e c'è calcio a kai berry e beh sì vediamo com'è se lo posso fare un odore mamma mia ecco fatto ecco fatto